nove mesi nel suo grembo, nel suo seno, dunque questo non è oggetto, anzi è una soggettività molto spinta, molto vivace. Non sono una madre, mi sento più di una zia e meno di una madre, forse a metà strada tra le due. Perché ho un sentimento più forte verso Davide e Dennis che verso i miei nipoti, ma non così forte come verso i miei figli. Non c'è una parola, solo amore assoluto, ma non credo che ci sia un nome per quello che siamo. Darci un'etichetta è solo un modo per la gente per darci addosso, perché vogliono capire ma non possono perché non sono nei nostri vanni. Non vedono dietro le quinte il rapporto che voi avete con noi. Pensano, hanno pagato questa persona, preso il bambino e poi addio. Si sente una cosa tremenda sulle donatrici di uova, come senza cuore, si è venduto agli uova che una borsa di Chanel. Se mi lasciano parlare perché la maggior parte delle persone vuole solo criticare o indovinare, alla fine non ci vedono niente di male, anzi vedono una grande riuscita. Per te e Jumpy lo farei ancora, per tutte le volte che vorrete. Per quanti bambini potrete crescere amorevolmente? Ma prima devi passare per me. Ciao! Sì! Grazie a tutti.